Classe Superbike, trofeo PBR IK, Claudio Corti e la sua R1 staccano il tempo di 1.46.891, tempo da pole di 2 secondi in meno rispetto al tempo di Luca Scassa che era di 1.48.314, avete visto anche Marco Borciani che è il dettore del titolo 2007 per quel che riguarda la Superbike nel tricolore. Al via i 37 piloti di questa categoria, ricordiamo lo trofeo PBR IK, in seconda posizione ora c'è Scassa seguito da Lorenzo Mauri, ma Claudio Corti, eccolo qua, lo vedete, fa il vuoto alle sue spalle, praticamente gira con ritmi assolutamente superiori a quelli dei suoi concorrenti. In quale dura per Marco Borciani, impegnato alla parabolica, ma la seconda piazza è contesa tra Conforti e Mauri, eccoli qua i due piloti, perché Claudio Corti stacca il traguardo per primo, seguito proprio da Conforti e Mauri. Un weekend spettacolare, abbiamo sempre avuto un ottimo passo, il mio obiettivo era quello di fare tutta la gara in 47, ce l'ho fatta, sono contentissimo. Ringrazio ancora una volta ConSogni che mi dà questa opportunità di sviluppare, provare pezzi e fare il campionato italiano, e ancora la mia squadra che è composta da ragazzi fantastici e mi insegnano sempre un sacco di cose nuove. E noi ci fermiamo qui con la sintesi di queste gare della seconda prova del campionato italiano a velocità disputata a Monza. Appuntamento è a Vallelunga per la terza prova.